pronto al minestrone la nostra prima papa posto un pagaine che buono e allora è buona c'è la più grande però dobbiamo fare l'aeroplano anche che schifo non mi piace tanto tanto sì o no sì o no è buono amore la nostra prima minestra è una dove la pasta scusa della pasta ancora è più buona la bavaglia la nostra prima minestrina è buona e mi piace comunque non serviva la bavaglia perché c'è non c'è una si ho visto non mangiare la bavaglia tanto che ti dire giù è buona 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 ma devi dire aprire l'atterraggio però adesso di l'atterraggio aspetta amore in diretta in diretta stiamo per pubblicare la storia e allora ti garbo non ti garbo salute salute mmm carino dai tira via c'è minestra attaccata nella bavaglia e io me la mangio tommaso basta che schifo c'è un dio che bavaglia lì per favore basta basta minestra ma che bontà ma che cos'è questa robina qua le maestà pioca e riso di maestà pioca con tutto quanto di più buona ancora della melli che la fassero al riso o il maestà pioca maestà pioca forse sembra che andiamo avanti al latte in altra stanza maestà pioca c'è ah no manina, no manina amore, no manina dito mamma, fermo no perché, 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 e sta fermo con le mani, ma allora sta minestra, è buona, è buona, è buona papona, è buona papona, è sì o no, è sì o no canale, è tutto a caisse, qua dai, dai Tommaso, stai qua, ma lì c'è la mamma, ma sta a girare qua, non piace più, non piace più la minestra, che schifo, che schifo di che minestra, ah no va che penso che la maglia e la bavaglia non ha più fame Senza... quindi è tutto partito a minestra adesso, eh! E allora! Ho bisogno di fare una cosa che mi piace, in tv di... Cosa stanno facendo in tv? Cosa ci devo fare? Ci devo far vedere i mattiti! Sei tutti mattiti, no ragazzi... Basta il mio dio! Sei tutti mattiti... ma sta registrando ancora questi e lui così, vedrà un po' questo pappello qua, come maglia sta arrivando l'aeroplano sta arrivando l'aeroplano, sbagliate le misure come me piace dammi carta Alessandro per piacere tre, quattro tocchi e carta guarda, dov'è? tre non ci piace via manina via manina dai, tiri via manina pataca mmm buona mano eh? è buona non è normale, no tiri via la manina eh amm maso via manina via dai amm ma perché metti la mano in bocca? ma perché? via via via